Ottimo per Mandragora, squadrono pizzichino lungo, Quame va subito a cercare l'affondo sulla sinistra, punta Patrick con l'esterro, dentro, Jovic con il mancino, la sfera resta lì, non c'è lì, ma Iconet! Sì, Jovic, pallone che si fa tutta l'aria, viene raccolto da Mandragora, Frentina che ancora manovra con Quame, altro cross, teso, dentro, Jovic! Ancora Frentina, 20 secondi dopo un'altra occasione per Jovic. Intanto ancora Frentina. Benissimo Igor, e allora Iconet dal limite, va col mancino, il piattone sinistro a girare, prove Del, salva ancora la Lazio. Su questa punizione riparte però la Frentina, lo fa con Quame, lo fa anche con l'altra rapidità, ovvero con Iconet che gioca corto per Quame, siamo sul limite con l'esterno, poi Felipe Anderson anticipa l'inserimento di Buonaventuro. Parte lui con il destro a rientrare sul primo palo, sfera che viene colpita da Vessino, non esulta l'ex Viola alla Lazio. Trova il vantaggio all'undicesimo minuto, praticamente sul primo tiro, dopo diverse situazioni favorevoli alla Frentina per trovare il vantaggio. Una buona avventura. Iconet, si serva, pone Dodò, vai Iconet, entra in aria, ancora il francese con il destro! Sfera che finisce sull'esterno della rete, alla linea difensiva della Lazio anche in queste circostanze. La Lazio ha cerchiato da Iviola. Buona avventura, di prima dentro è un tiro cross, Patrick la mette oltre la linea di fondo, la Lazio soffre, la Frentina gioca. Rischiosissimo intervento di Patrick, è lì, o ti fai autogol o salvi la partita. Corto per Immobile, scarica ancora su Milinkovic-Savic con il mancino Zaccagni e la Lazio trova il raddoppio sul secondo tiro del match. Frentina che gioca, Lazio che segna il 2-0 Beffa. Con l'avventura di prima per Biraghi, Kwame. Tocco per Mandragora, è ottimo, il sinistro di Mandragora che finisce sulla traversa deviato. Ma dai, deviato, deviato da un difensore. Fiorentina sfortunata in questa circostanza, Biraghi sul secondo palo, salta Jovic, salta anche Martinez quarta! E poi Provedel, ancora tiene la Lazio sul 2-0. Aumentarsi sulla ribattuta di Milinkovic-Savic. Biraghi, verticalizzazione per Kwame che va a sgasare sulla sinistra, poi il cross dentro, non c'è Provedel. Nico Gonzalez non riesce ad impattare il pallone. Si lancia ancora Kwame nello spazio, Jovic, forse un fallo di Romagnoli. Poi si avventa sul pallone Nico Gonzalez il sinistro! Pallone che scende, ma non tanto quanto basta. Chiuso da Romagnoli, allora Pedro si propone in avanti. Tocco a scarico su immobile, appoggio per Luis Alberto e c'è la rete del 3-0 della Lazio. Cambio di fascia per Nico Gonzalez, ottimo lo stop, piattone sinistro. All'89esimo aveva provato un lob, un pallone per Nico Gonzalez. Luis Alberto non è profondo per Milinkovic-Savic. Lo stop, l'appoggio di tacco e poi il destro di Immobile per il 4-0 Lazio.